eccoci qua eccoci qua benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato come va cari amici tanto che si collega un po di amici io vi faccio subito un resoconto sono qui nel resort agriturismo a montepulciano e volevo c'erano alcune notizie di cui volevo parlare assolutamente il prima possibile senza magari aspettare di avere il tempo di tornare a casa a dubai o in kuwait e fare tutte le mie i video con la sigletta iniziale eccetera perché ne ho veramente ne ho veramente tre quattro una dietro l'altra o vedo che i primi amici iniziano a collegarsi ciao a tutti allora io comincio subito con diciamo notizie un po facette un po dal mondo dei vip ok cominciamo ciao nicola purtroppo non ci abbiamo visti nicola tessero ma io sono già scappato in toscana allora leggete sul fatto quotidiano questa notizia l'incredibile gaff di antonella elia chiede a una novantenne se fa ancora sesso con suo marito e lei risponde è morto la clamorosa gaff di antonella elia cioè ora io per anni e anni mi sono chiesto se antonella elia ci faceva o c'era perché se ci faceva era un genio nel senso fai la parte di della svampitella in televisione cappello biondo alla gente tutto sommato piace il personaggio fai soldi campi senza saper fare niente nella tua vita io ti stimo anche non c'è problema il problema invece che lei ci è è un grosso problema perché ricordiamoci fra l'altro antonella elia è una che un paio d'anni fa era in televisione andava in televisione a parlare della legge zan senza averla mai letta ci sono alcune video di lei che va nelle trasmissioni televisive a difendere con tutta la serietà e la sua superiorità morale la legge zan poi quando però gli dicono ma tu l'hai letta sai di cosa parla la legge zan ah no nello specifico non lo so questo è il personaggio antonella elia che poi va a chiedere a una signora di 90 anni se fa ancora l'amore col marito e questa gli risponde è morto pensate che razza di personaggio che è imperversa nelle trasmissioni italiane andiamo un'altra cosa che mi ha abbastanza incuriosito l'ho sentita fra l'altro ieri alla radio mentre ero in giro con mia moglie fra siena e altri paesi ok vi faccio vedere questo personaggio qui lo riconoscete questo è il cantante mario biondi con quella voce pazzesca che ha mario biondi il cui il quale ha detto ed è stato riportato dalle maggiori testate giornalistiche ho nove figli e credo proprio che arriverà anche il decimo so che una scelta non comune siamo in un'epoca autoreferenziale dedicata a noi stessi in cui se preferisce divertirsi andare in vacanza a fare altro avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile avere tanti amori vicino una benedizione incredibile questo secondo me è veramente una bella frase adesso uno se volesse potrebbe anche criticarlo del fatto che mario biondi comunque va in giro con la catena al collo parla di avere nove figli però i nove figli li ha fatti con quattro mogli diverse quindi diciamo che come marito probabilmente non è il migliore dei mariti però secondo me ci sarebbe da riflettere un attimino sul fatto per esempio che soprattutto le persone molto benestanti magari dovrebbero essere ancora più incentivate a fare figli perché per loro non è un peso economico cioè chi fa veramente fatica ad arrivare a fine mese ha anche un motivo no per dire eh ma io faccio fatica a fare queste cose insomma ad avere figli a garantire di un futuro se non riesco neanche a risparmiare 100 euro a fine del mese già adesso andiamo in questo articolo adesso cambiamo di nuovo vi mando questo articolo che richiama un po quello che ho postato ieri su scazzo moderato ovvero questi giudici che come sempre decidono che sono loro i rappresentanti del popolo non vengono votati ma decidono cosa fare come vi avevo scritto ieri c'è una giudice che ha deciso che alcuni immigrati che secondo il ministero degli interni andavano espulsi e rispediti in tunisia lei ha detto no no li teniamo in italia perché la tunisia non è un posto sicuro tranne il fatto che ci vanno i turisti tranne il fatto che ci sono i villaggi di italiani pensionati che vivono in tunisia tranne il fatto che non c'è nessun divieto non c'è nessuna guerra ma lei ha deciso lei ha deciso per tutti anche se non è stata letta dal popolo ora è interessante perché il fatto scusate il giornale punto it pubblica un articolo su questa giudice la quale è la stessa che ha dato pensate bene 13 anni di carcere adesso vi leggo l'articolo guarda guido gianni si farà 13 anni di carcere per aver ucciso due ladri salvini lo difese a firmare la condanna fu yolanda apostolico esatto la stessa giudice che va contro il governo decidendo lei chi può essere espulso o no fa i post contro salvini contro la destra su qui scrivono anche che lei su facebook segue potere al popolo fa i post di sostegno alle ong quindi non è un giudice che ha l'amore geratezza di tenersi le proprie idee politiche per sé bensì è un giudice che pubblicamente fa capire a tutti quanti come la pensa ovviamente questa cosa è sbagliatissima perché tu dovresti avere l'idea che un giudice ti sta condannando e giudicando solamente sulla base di quello che è la legge non sulla base di quello che sono i suoi pregiudizi politici e qui infatti viene fuori che c'è questa storia nel febbraio 2008 la gioielleria di guido gianni venne attaccata da dei malviventi uno di loro prende in ostaggio la moglie la immobilizza a terra minacciandola con una pistola mentre i suoi complici tentano di svuotare il negozio il signor gianni gianni il cognome armato di una beretta legalmente posseduta reagisce lotta contro gli assalitori e apre il fuoco uccidendo due ladri e ferendone un terzo 11 anni dopo la corte di assise di catania lo condannerà a 13 anni di carcere una decisione che salvini definirà vergognosa e poco giusta e disse io sto dalla parte di chi si difende sempre non sapendo che quattro anni dopo si sarebbe nuovamente trovato a scontrarsi con la giudice che firmò quella sentenza yolanda apostolico ecco la giudice che libra gli immigrati andando contro il governo è anche casualmente una giudice che mette in galera gli italiani onesti che si sono difesi dai delinquenti e di questo che stiamo parlando la lobby la casta che gestisce la giustizia in italia una cosa che fa accapponare la pelle andiamo ad altre notizie sempre rimanendo voglio rimanere su salvini perché questa cosa qui la trovo abbastanza interessante allora se voi chiedete era scattata era saltata la diretta ci siete ancora fatemi un segno qualcuno mi scriva qualcosa che siete ancora collegati o mettete un bel mi piace al video così prima ancora della fine del video giusto per così vedo la reazione del pubblico perché per un attimo mi ha detto che non ero più collegato aspetto i vostri commenti fatemi sapere cosa ne pensate vedo qualche reazione ok ci siamo quindi posso andare avanti allora ho fatto un esperimento ok adesso ve lo faccio vedere insieme cioè ve lo faccio vedere ce lo guardiamo insieme questa qui è la pagina facebook di salvini ok il quale posta un'immagine presa dal corriere della sera e dice e commenta gli operai eroi della strage di mestre abbiamo salvato tre persone poi le fiamme ci hanno bruciato le mani e ci siamo arresi ok quindi cosa succede che tre ragazzi operai a mestre di colore quando hanno visto la tragedia che è successa ovvero di questo pullman che è caduto da un cavalcavia e 21 persone sono tragicamente morte loro erano lì sotto e si sono adoperati per per tirare fuori dalla gente dalle lamiere quindi commenta onore a loro adesso qui ci vuole la mia riflessione qual è che se voi leggete qualsiasi giornale della stampa igienica che sia corriere della sera repubblica la ecco era scappata di nuovo la mannaggia la miseria quando sei in campagna queste cose succedono la qualità non è un granché dicevo se voi leggete la stampa igienica un italiano su due che legge quella roba assa lì stampa corriere repubblica eccetera è convinto che tutti i leghisti sono razzisti o buona parte di essi che chiunque vota a destra è razzista e fammi salvini meloni eccetera